Oltre un milione e mezzo di euro contro il coronavirus, questo quanto raccolto grazie a 151.000 cittadini che hanno donato e al raddoppio di Coop. E' infatti il risultato del crowdfunding Sosteniamo la ricerca oggi per tornare più vicini domani. Una raccolta fondi a favore dei giovani ricercatori del Madalab di Toscana Life Science guidato da Rino Rappuoli. La cooperativa quando agisce a sostenere delle iniziative e dei progetti così importanti chiede sempre la collaborazione delle persone perché è un modo di avvicinarle al problema e di farle partecipare attivamente. Nato nel 2018 per studiare possibili soluzioni al fenomeno dell'antibiotico resistenza, il laboratorio dal marzo scorso ha prontamente indirizzato le proprie competenze nell'individuazione di anticorpi monoclonali umani capaci di curare il Covid-19. Ad oggi la previsione è quella di poter contare su una terapia specifica entro la primavera 2021. In 40 giorni dunque le donazioni sono arrivate dai punti vendita sulla piattaforma Eppela e tramite bonifico bancario. Sostenere la ricerca vuol dire creare poi un futuro migliore per tutti noi.